nuova settimana nuova puntata di buone vacanze con questa sera c'è con noi natalia ferrara buonasera buonasera a tutti e a tutti allora una grande viaggiatrice giusto viaggi e vacanze ogni volta che è possibile da dove nasce quando nasce questa passione presto presto perché ho sempre fatto sport e quindi con il gruppo di ginnastica trattistica ci siamo mossi tanto e quindi ero piccola fine elementare inizio media abbiamo cominciato a andare con il gruppo di ginnastica e mi è piaciuto tanto e quindi poi al liceo all'università ho continuato e all'università viaggiatrice da zaino in spalla sì sì cercavo di farlo portare a qualcun altro lo ammetto quindi non so penso a dei viaggi in asia dove cercavo sempre il passaggio buttare lo zaino dietro i pick up per non dovermelo portare o entrare su un motorino oggettivamente faccio un po' fatica col peso però sono diventata un mago dell'organizzazione per farci stare tutto no poi sono sono dei viaggi belli infatti quelli li chiamo viaggi e non vacanze no qual è la distinzione è dell'esperienza la vacanza va benissimo però per me la vacanza è quella in un albergo in un resort in un villaggio vacanze stai lì spiaggia cocktail insomma e invece il viaggio è quello della scoperta di un paese quindi la sua cultura la sua storia il cibo e proprio viverlo che costa fatica anche non è no anzi di solito dai viaggi si torna più stanchi di quando si è partiti va bene allora iniziamo a sfogliare l'album che hai portato le tue fotografie ecco qua dici natalia dove siete con tuo marito qui siamo in sardegna due anni fa e quindi leone era molto piccolo tre anni oddio tre anni fa sì sì il tempo passa era l'estate del 2021 lui aveva tre mesi io ero ancora in congedo maternità e abbiamo usato una parte del congedo paternità di matteo e delle sue vacanze per passare un mese insieme e qui eravamo a sant'antioco dove ci siamo rifugiati era era molto caldo e abbiamo dovuto cambiare un po l'idea del nostro percorso e tra le altre cose siamo usciti in canoa è stato molto bello è stato molto divertente per noi per chi era fuori ci vedeva con questo erano tutti si terrorizzati quando siamo scesi erano sulla terraferma erano tutti un po più urli tra l'altro vedremo tantissime foto di famiglia in questa occasione quindi sono vacanze o viaggi familiari qui nel nostro van siamo sempre in sardegna in barcavela beh l'idea è quella comunque anche di far passare il messaggio che si può viaggiare fare sia viaggi che vacanze in famiglia anche con bambini molto piccoli bisogna organizzarsi bene ma si può fare tutto anche qui abbiamo voluto sempre sardegna qui e sempre in sardegna abbiamo voluto tornare in barcavela perché su questa barcavela non sono passati neanche cinque minuti mi fai già svelare cose di cui a casa dovrei pentirmi pagherò pegno su questa barcavela nel sud della Francia l'anno prima finalmente abbiamo ricevuto questo bel regalo è iniziato a questo bel percorso prima della gravidanza e poi è arrivato leone e quindi l'anno dopo abbiamo detto torniamo in barca e inizialmente ovviamente un barcavela con un bimbo di tre mesi si può fare si può fare e ma senti già che raccontavi questo com'è organizzare una vacanza per esempio in van abbiamo visto il van serve grande preparazione immagino no qui anche qui eravamo eravamo in sardegna con il nostro bulli con il nostro california bisogna prepararsi bene perché evidentemente devi avere quello che ti serve organizzati bene e soprattutto però flessibili per fare un esempio qui avevamo scelto una serie di tappe poi era ancora più caldo del previsto e ci sono stati purtroppo quell'anno molti incendi il vento caldo portava era diventato abbastanza insostenibile nelle nelle zone in cui eravamo e quindi abbiamo ripreso il nostro percorso cambiato rotta abbiamo fatto qualche notte in un bed and breakfast qualche notte in albergo e quindi abbiamo cercato di affrontare un po sul momento quello che capitava in generale però pianificare bene le tappe ma quanto tempo ci dedichi prima tipo prima di partire a più del viaggio sicuramente c'è una vacanza un viaggio durano due settimane per qualche mese ci dedico sempre un pochino di tempo per i viaggi grossi anche molto di più anche per se meticolosa sì sì anche perché a volte facciamo viaggi impegnativi ne abbiamo fatti alcuni prima che arrivassero con i bambini penso alla mongoglia penso allo sri lanka ma proprio vissuti cioè quando c'è l'albergo bene quando c'è la tenda la capanna la yurta il pavimento va bene lo stesso perché ci sono delle zone senza corrente senza acqua quindi anche difficili e vanno preparati bene quindi devi devi essere sicuro sul fronte salute sul fronte sicurezza ma anche sul fronte vacanze diciamo non viaggi sei una che dedica particolare tempo alla scelta dell'hotel studia non so legge le recensioni oppure no come vai a istinto ma penso che dopo così tanti anni un po no dedico tempo alla pianificazione però l'albergo c'è soprattutto appunto quando è una vacanza se cerco un albergo sul mare mi interessa che sia pulito che si mangi bene che ci sia una bella spiaggia e magari presso attenzione a quelle cose che ne so non deve essere una zona da surfisti perché poi uno non si può lamentare dire sono andato non potuto fare il bagno perché il mare era agitato beh grazie che era una zona surfisti cose di quelle che leggi sulle recensioni sono andato lì ma non c'era il buffet internazionale ma scusa era un posto su una spiaggetta sperduta quindi sì un po di tempo lo dedico ma più proprio per i viaggi che non per le vacanze andiamo avanti sì però questa è realtà una foto drammatica nel senso di una vacanza un po difficile dove siete qui siamo in repubblica dominicana santo domingo doveva essere la vacanza perfetta quella facile e invece invece è stato un disastro totale adesso rido ma a natale quindi pochi mesi fa poco prima di natale dovevamo farci un bel regalo con i nonni quindi con i miei genitori e invece siamo stati tutti malissimo ma proprio malissimo iniziato noè con dei problemi gastro intestinali che non sono stati apprezzati in aereo ed è andata avanti così per tutta la settimana quindi il personale delle pubbliche si è trasmesso da tutti già tutti quindi febbre problemi noti e problemi noti il personale delle pulizie che non voleva fare le nostre stanze ha detto signori io faccio il possibile però poi e questi bambini era abbastanza divertente perché per cercare di salvare il salvabile tipo un giorno il piccolo noè era nel passeggino e gli avevo fatto una specie di sembrava un uovo di pasqua perché l'avevo proprio messo dentro perché la cosa incontenibile e però cosa fai chiudi in camera per una settimana no e quindi abbiamo cercato comunque di goderci la vacanza per quanto possibile e ce l'immaginavamo un po' diversa senti visto che hai parlato naturalmente di santo domingo dove serve l'aereo per arrivarci come ne ho parlato anche qualche settimana fa con caroni in rotte che anche lei viaggia con i bambini come organizza i bambini sull'aereo natalia ferrara allora abbiamo iniziato con entrambi prestissimo quindi io ho volato quando ero incinta ho volato quando sono nati leone ha preso la prima volta l'aereo che aveva poco più di un mese ed è così per tutti i mezzi cioè battello nave treno auto quindi sono abituati a muoversi e poi è un gioco quindi se tu secondo me come genitore sei sereno sono sereni anche loro e alla fine facciamo un aereo quello che facciamo a casa leggere quindi tanti libri chiacchierare la propria coperta il proprio dudù questo è un aereo sicuramente questo è un aereo e ti direi dal body e vedendo fuori Swiss stavamo rientrando dall'America quindi sì un volo lungo volo molto impegnativo da San Francisco però che sia un volo di un'ora che sia un volo di dodici che poi quelli di un'ora possono diventare di dodici perché quando leone era molto piccolo siamo andati a Catania e c'è stato un problema eruzione dell'etnea e quindi siamo rimasti in aria tre ore è stata una cosa tu mai avuto paura dell'aereo? no mai 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 e in generale non ho mai avuto paura di viaggiare anche se insomma qualche volta cose ne succedono quando quando si viaggia ma è proprio fa proprio parte di me vediamo un po mi sa che arriva la California è la California bene potrebbe essere qualsiasi altra spiaggia però un pisolino lì non guasta abbiamo fatto unissimo giro allora qui ti direi che possiamo essere ma forse Santa Barbara Santa Monica sì e lì sì volo impegnativo perché San Francisco è molto lontana quindi magari consiglio per chi è a casa non per la prima volta e poi qui eravamo con tutti e due i piccolini è stato l'estate scorsa bello molto bello preparato molto bene ci siamo spostati in auto ci siamo presi il tempo quindi non abbiamo visitato tutto abbiamo scelto e abbiamo cercato di fare felici noi e quindi visitare bene una città come San Francisco e fare felici anche i bambini e quindi spiaggia parchi eccetera ah vedi qui ad esempio eravamo in un parco nazionale c'era questa scarpinata pazzesca e per fortuna uno dei due si è addormentato sembra la Svizzera sì in effetti sembra un po' la Svizzera ma uno dei due si è addormentato e quindi l'abbiamo lasciato giù e con l'altro abbiamo fatto la scarpinata salire perché sennò a me sarebbe toccato uno dei due bambini e quei bambini è un po' come quello zaino io cerco sempre di dare il peso a qualcun altro poi Matteo è messo oggettivamente meglio di me perciò vediamo ancora sulla California qua vedo un bus un cos'è un questo è un trattore qui eravamo nella zona della Napa Valley siamo andati in alcune fattorie e a visitare alcune cantine quanto sei stata in California per questo viaggio un mese è il tempo giusto? sì secondo me sì quando si fa un viaggio così lontano così impegnativo vale la pena prendersi il tempo perché può chiaramente certo evidentemente era da un po' di anni volevamo già andare nel periodo del covid avevamo già organizzato tutto e poi ma perché la California? beh intanto perché mi piaceva tantissimo l'idea di seguire le ormi di ticinesi che sono stati lì e infatti siamo stati anche in diversi luoghi avevo letto tante storie e mi è piaciuto andare dove in fondo c'è stato un pezzo di Svizzera che in parte poi è tornata a casa in parte no però il mio è anche un passato migratorio quindi mi affascinava molto però questo diciamo con le Americhe ci sono molti luoghi dove assolutamente perché la California perché effettivamente è uno dei pochi posti secondo me che ha tanti contrasti ma che ancora si possono gestire mi spiego in Florida è tutto molto rose e fiori sono poche spine nel sud non so se andavamo a New Orleans forse poteva essere troppo impegnativo no anche con i bimbi invece qui riuscivamo ad avere un buon equilibrio perché poi ci sono delle cose da spiegare cioè se tu vai in America e ci sono dei senza tetto e ci vai con i bambini io trovo giusto che tu provi a spiegarli perché queste persone non hanno una casa no quindi ad esempio qui eravamo a San Francisco la visita di San Francisco è stata per noi molto emozionante abbiamo fatto anche delle belle scarpinate chi c'è già stato lo sa che ci sono delle belle belle salite famigerati tram di San Francisco assolutamente è stato molto divertente anche per i bimbi una città tra l'altro per ricollegarmi a quello che stavi dicendo dove ci sono tantissimi homeless insomma proprio esatto ed è stato abbastanza scioccante perché ero già stata in America ma rispetto a New York che comunque voglio dire una grandissima città non c'è paragone quindi San Francisco è stato difficile siamo stati con Matteo a Filadelfia anche quella è una città che può essere impegnativa da quel punto di vista ma quello che abbiamo visto a San Francisco non l'avevo ancora visto se non in paesi del terzo mondo ed è chiaro che essere in pieno centro a veramente un metro dalle ambasciate dalle piazze, dai monumenti principali avere così tante giovani tra l'altro giovani donne, giovani uomini molti anche proprio dopo la pandemia che non hanno più ritrovato un lavoro non hanno più ritrovato la propria strada fa proprio male al cuore e lì poi da mamma cercavo di gestire il bisogno di protezione verso i bimbi ma allo stesso tempo il fatto di spiegare che sono persone quindi di avvicinarci nella maniera più rispettosa possibile ma se facciamo conto quando noi pensiamo al mondo diciamo l'Europa sta al centro, noi stiamo al centro del centro e quando tu devi pensare ai tuoi viaggi, alle tue vacanze così il tuo cuore, la tua testa batte più verso l'Asia o verso l'America? o verso l'Africa? se dovessi... Asia tutta l'Africa Asia? Perché? E in manco da tanto tempo perché in Asia ho vissuto sicuramente le esperienze più autentiche anche quelle più difficili in Asia mi sono ammalata di dengue quindi non proprio una passeggiata in... dove eri in Sri Lanka? eri in Sri Lanka però è il paese di cui... i paesi di cui ricordo proprio tutto cioè i primi satai, i primi spiedini di pollo in Indonesia la prima volta del fiore del frangipani a Bali proprio molto intenso anche l'incontro con le persone quindi che sia la Thailandia, la Malesia in Asia ho visitato tanti paesi sempre zaino in spalla bello però scusami un attimo, piccola parentesi bella questa cosa dello zaino in spalla della fatica bellissimo però ogni tanto un bel risortone 5 stelle un viaggetto in business class non lo so assolutamente sì assolutamente sì tra l'altro è una cosa che secondo me bisogna sempre imparare a gestire nei nostri viaggi cerchiamo di mettere sempre il premio quindi a fine vacanza qualche giorno anche quando ti muovi con lo zaino qualche giorno in un bel albergo mi piacciono gli alberghi storici mi piacciono i posti particolari in America siamo stati a sacramento su un battello sul fiume a dormire quindi per me il lusso è quello ecco sì posti dove proprio di quelli che trasudano storia e dove si sta bene per carità dove bevi bene dove mangi bene eccetera viaggio in business class con molta moderazione perché ahimè costa tantissimo questo sicuro e qualche volta qualche volta però ti cambia il viaggio soprattutto se è lungo non sempre ecco ad esempio tornando dall'America abbiamo deciso di farci questo regalo c'era la possibilità di fare l'upgrade e abbiamo detto ma sì dai è un volo lunghissimo il giorno dopo dovevamo essere entrambi super operativi e io era un periodo anche molto intenso sul fonte professionale dovevo assolutamente andare andare a Zurigo quindi saremmo atterrati a Cloten tornavamo in Ticino con la famiglia poi io sarei dovuta tornare al Tregotardo e quindi abbiamo detto ci facciamo un regalo in realtà è stato un disastro ma perché? perché c'è stato un problema con con la nostra pronotazione e quindi ci hanno sparpagliato per tutto non sto scherzando quindi ci hanno sparpagliato per tutto l'aereo quindi non eravamo seduti insieme che nella gestione di due bambini aiuta ai nostri posti c'era una signora con con un cane che ha detto no che lei da lì non si spostava il suo vicino neanche poi c'era chi non voleva dei bambini vicino insomma quelle cose che succedono e tra l'altro io posso dire ci sono dei cani e dei bambini che sono molto più simpatici ed educati di tanti adulti rompiscatole ma al di là di questo è stato un volo un po' complicato vediamo ancora cosa c'è sacramento ecco e beh sì quando quando parliamo di luoghi di migrazione e di storia e dell'oro questo cos'è esattamente qui sei qui siamo a un museo a cielo aperto quindi hai tutta la parte all'esterno con tutti i treni e tutta la storia legata appunto alla ricerca dell'oro e alla costruzione della California in sé e era molto bello perché ci permetteva di immergerci in quella realtà e allo stesso tempo figurati per dei bambini vedere queste locomotive meravigliose alcune tra l'altro all'interno erano ancora perfettamente allestite come nel secolo scorso ormai due secoli fa e quindi era era proprio un viaggio nel tempo andiamo avanti ah questa è la Lapponia invece torniamo in Europa credo sì qui siamo è bella Aurora Boreale altrove non l'ho ancora vista ma è così emozionante questa Aurora Boreale sì vederla dal vivo sì devo dire di sì le vacanze invernali o viaggi invernali sono più un desiderio di Matteo che non mio infatti anche a New York lui ho voluto andarci a Natale io ero abbastanza disperata per questo a me piace il caldo però qui devo dire che è stato un viaggio molto bello siamo andati volo su Helsinki da Helsinki a Ivalo siamo nel nord della Finlandia quindi in questa zona della Lapponia dove cioè se non vedi l'aurora boreale sei proprio sfortunato e infatti l'abbiamo vista noi abbiamo scelto una pensione una pensione che che anche l'allevamento di cani aschi che traenono slitte che fanno gare eccetera e quindi avevamo la possibilità di stare lì di visitare l'intorno l'abbiamo fatto in auto ma poi soprattutto delle gite in slitta con gli aschi e con alci ren qualsiasi cosa tranne moto slitta trovo che sia così bello il silenzio di questi posti e in effetti è stata è stata una bella vacanza anche nella sera di capodanno com'è il capodanno a nord del mondo? abbiamo mangiato un sacco di renna in tutti i modi molto buona anche leone tra l'altro qui aveva otto mesi poi tutti i viaggi sono legati a dei momenti non so ad esempio qui lui ha rinunciato al ciuccio e la renna era molto più interessante cioè quindi il suo svezzamento era dicevi dell'aurora boreale mi interessava è così sì è potente perché prima di tutto è una cosa che aspetti ma non sai se arriva quando e non la puoi controllare ormai non siamo più abituati a questi fenomeni no? cioè alla fine puoi comprare quasi tutto quindi quando viaggi esci in barca per vedere i delfini esci per vedere le balene ed è tutto molto pianificato e qui invece aspetti aspetti che il cielo si colori se sei fortunato succede noi eravamo in una zona dove non c'erano costruzioni eravamo abbastanza distanti dal paese e quindi tutto intorno immagina questa foresta bianca meno 25 gradi nero 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 buio già da metà pomeriggio e a un certo punto che può essere inizio serata può essere in piena noce questi aspetti hai questi lampi di luce poi hai l'impressione che emettano anche un suono tra l'altro poi leggevo che davvero può capitare no? perché è energia che si sprigione è elettricità e quindi può esserci come un sibilo no? ma proprio si squarcia il cielo viola, verde, rosso e sei lì e vorresti prendere questo momento infatti cerchi di fotografarlo questa è mia scattata con l'iPhone non è bellissima ma giusto per capire rimangono cioè questi rimangono non è che appaiono rimangono no hai questa scia che rimane in cielo poi naturalmente quando dici ok adesso mi piazzo cavalletto è andata è andata e infatti quelli veri quelli veri stavano fuori noi stavamo nella nostra stanza i bambini dormivano guardi fuori quelli veri stavano di fuori per ore e ore a meno 25 a meno 25 con tutta l'attrezzatura schierata insomma neanche quindi esperienza che consigli assolutamente sì bene Natalia grazie mille per averci aperto un po' del tuo album fotografico delle tue vacanze grazie 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 a voi e ci ritroviamo la settimana prossima con nuovi viaggi e nuove vacanze grazie a tutti 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 grazie a tutti